Diva, nuova Coffee Tower per il settore vendi, una macchina rivoluzionaria che ha la possibilità all'utente di personalizzare, come meglio crede, la propria bevanda. Questo grazie a oltre 350 diverse combinazioni dove si può aggiungere alla selezione preferita, la possibilità di diverse tipologie di topping e di sciroppi, oltre che la gestione del latte fresco, per dare una nuova sensazione sempre più gustosa alla bevanda selezionata.